Buongiorno da Verona dove sto andando al negozio di Natura Si prima di partire per il BAM, negozio di Corso Milano, negozio molto molto bello, guardate un po'. Un negozio con bistro, quindi uno dei miei formati preferiti dove si può anche mangiare. Partenza per Borgo Lausen al BAM e dopo chilometri chilometri di grano mais arrivano le vigne, le vigne alle porte di Verona. Finalmente dopo i cento chilometri di ieri di solo pianura si comincia a salire. Persegue la salita verso il BAM. Grazie a tutti. Stiamo per entrare a Velo Veronese, paese del formaggio Monteveronese. Pausa via Verde, Osteria, Locale. Sto arrivando al BAM, salita al rifugio Lausen, bellissima. Arrivata alla vallata, questi sono i monti listini. Arrivati al BAM. E' in linea assolutamente con le linee che abbiamo in azienda per quanto concerne l'alimentazione. Quindi per noi ci sentiamo di fare un servizio anche. Diciamo un po' di penalizzante. E' normale che sia così, però nello stesso tempo noi cerchiamo di selezionare. Non è l'estate ovviamente, qui siamo nelle malghe. In inverno le bacche sono nelle stalle un po' più in basso, però sono stalle tutte dagli 800 metri in su. Sono stalle di famiglie e contadine che urano il territorio. Fine del viaggio mi preparo la cena con dei cracker di Natura Sea. Ciao, alla prossima!